Cosa emerge dal rapporto di quest'anno? Emerge un sistema sicuramente ridimensionato dalla lunga crisi economica che ha investito l'Italia negli ultimi anni, ma con una forte selezione del sistema delle imprese che ha determinato un irrobustimento delle condizioni di solidità economico-finanziaria. Inoltre emerge una forte crescita della competitività del sistema, abbiamo avuto un aumento delle quote di commercio mondiale da parte dell'export italiano, una buona capacità di creare occupazione e in sostanza un posizionamento competitivo strutturalmente più robusto rispetto alla fase di crisi. Quali sono le criticità strutturali e i punti di forza delle imprese italiane? Per quanto riguarda i punti di forza direi che il settore manifatturale si conferma un settore molto innovativo, molto competitivo, ha avuto una performance di crescita importante e sul piano del commercio estero è stato assolutamente alla pari con i competitor più agguerriti come la Germania. Come un punto di debolezza direi che dal rapporto emerge ancora una debolezza strutturale del settore dei servizi che si è riposizionato lentamente in termini di capacità produttiva e di produttività e mantiene un passo di crescita sicuramente inferiore alle aspettative.